La preghiera del rosario è la preghiera degli umili e dei santi che, nei suoi misteri, con Maria contemplano la vita di Gesù, volto misericordioso del Padre. Abbiamo tutti di essere davvero consolati, di sentirci avvolti dalla sua presenza d'amore. Cuore più grande, dove l'altro possa sempre trovare disponibilità e accoglienza. La preghiera del Padre Proteggi, santo custode, questo nostro paese. Proteggi, santo custode. 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 il Signore perché liberi il mondo da ogni forma di pandemia.